Genova porta d'Europa, oggi sabato 17 maggio siamo qui con tantissimi amministratori locali di tutta Italia a viso pubblico come tutti gli anni porta delle persone che praticano la legalità all'interno della pubblica amministrazione siamo in tanti e speriamo di essere sempre di più per fare memoria delle vittime 46 delle quali erano amministratori pubblici e per rinnovare l'impegno all'interno delle istituzioni per dare vita all'articolo 54 della Costituzione che chiede a tutti noi di essere fedeli alla Repubblica e alle sue leggi a partire soprattutto da chi era a un incarico pubblico e a chi rappresenta la Costituzione